Il borgo di Metaurilia, 2000 anime subito fuori Fano, ha goduto in passato di tempi migliori. Qui negli anni 60 e 70 c'era un notevole movimento turistico estivo legato alla disponibilità di residenze ed un'arenile di oltre 150 metri, dieci volte tanto quello che ora c'è. E dietro il turismo vi era una ricca economia, un benessere comune, manifestazioni, feste, eventi, occasioni di socialità, se a questo aggiungiamo due fiorenti attività commerciali come il consorzio agrario ed un magazzino di ortaggi, i conti sono presto fatti. Ma ora tutto questo è solo un lontano ricordo vivo nella mente di chi lo ha vissuto. Ora invece c'è solo una statale 16 che miete vittime in continuazione, questo tratto è in cima alla lista tra i più pericolosi di Fano, un piazzale antistante alla bellissima chiesa di San Benedetto con la sua imponente facciata in arenaria a tre vasche, ora ridotto a un desolante parcheggio, ma che potrebbe dare molto molto di più. Abbiamo due criticità grosse, una più o meno all'altezza del centro scarpa e un'altra è qui dove c'è l'attraversamento. La maggior parte degli incidenti avvenuti a Metaurilia negli ultimi decenni sono dovuti alla velocità delle macchine e al fatto che quando una macchina si ferma per far passare il pedone ce n'è subito un'altra che sorpassa e non vede. Noi proponiamo di rallentare le auto nella parte urbana di Metaurilia e restringere la carreggiata nei punti di attraversamento in modo da impedire totalmente questo disastro. C'è un esempio concreto che avete toccato con mano, siete andati in Romagna, come hanno risolto lì questo problema? Hanno praticamente realizzato marciapiedi a destra e a sinistra, la corsia l'hanno ristretta rallentando il traffico, facendo convivere i pedoni anche in una banchina dove c'è praticamente un salvagente e mette in sicurezza la popolazione e lì è stato risolto brillantemente. Facendo il marciapiede su questo lato qui si potrebbe, cioè bisogna lavorarci, però quella che abbiamo visto a Verrucchio è una proposta. I componenti del circolo Albatros, promotori di mostre e convegni per tramandare la ricca storia del borgo, sognano e vorrebbero che anche la spiaggia ritornasse quella che questa frazione di Fano aveva durante il suo periodo migliore. Io sono nata qui 66 anni fa, quando il mare era aperto, perché questa scogliera ce lo costruisce completamente. Sappiamo fortunatamente che Ferrovie dello Stato e Regione hanno stanziato oltre 4 milioni e hanno fatto un progetto per poterle spostare entro il prossimo anno, però il finanziamento non è sufficiente. Permette di spostare le scogliere solo per un meno del 50%. Tutte le strutture, le poche strutture, perché ce ne sono 4, verrebbero molto danneggiate, perché una volta che il mare è impedito da una parte, dalla parte dove è libero poi approfitta per avanzare.